È arrivato l'ok da parte della Giunta regionale per la realizzazione della ciclovia del Foglia, un intervento da 3,5 milioni di euro che si aggiungeranno ai due già preventivati per il collegamento con Pesaro. Un progetto volto alla sostenibilità e alla scoperta di bellezze paesaggistiche che comprende non solo Vallefoglia, ma anche altri comuni dell'Unione di Pian del Bruscolo. È un progetto che abbiamo concordato già qualche anno fa con la Regione e che dà seguito la nuova Giunta regionale con quasi 5 chilometri di piste ciclopedonali solo su Vallefoglia, poi altrettanto su Tavuglia e parte in un sistema di ciclopedonali in un'area dell'Unione dei Comuni di circa 100-150 chilometri di piste ciclopedonali che vanno da Pesaro e vanno su fino all'altezza di Auditore, Casinina e così via. È per noi importante, anche se per noi è anche un onere, perché poi dobbiamo curare gli espropi, mettere i soldi per gli espropi e poi dobbiamo fare la gestione, quindi sia come Unione dei Comuni, perché una parte di quelle già realizzate sono state realizzate con i fondi europei da parte dell'Unione dei Comuni, sia quelle dei singoli comuni, però è importante perché significa poter fare usufruire delle bellezze dell'albe o del fiume, diciamo di tutto quello che c'è in termini storici, culturali, ambientali e paesaggistici lungo l'asta fluviale del Foglia. Prevalentemente passa lungo l'asta fluviale, sulla riva sinistra, sulla riva destra, secondo anche la conformazione del territorio dove è possibile, e quindi diciamo che è una fruibilità che in parte è dentro i fianchetti di centri abitati, per grandissima parte va lungo l'asta fluviale. Grazie.